gas in arrivo zona sicura riposizionata un compagno a via libera per il rischieramento fucile di precisione qui fucile in discesa nell'area occhio in alto attenzione un team nemico vi insegue il gas in arrivo il taglio taglia eliminato ben fatto zona sicura non sicura non ti accommai a 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